e mi ha fatto una domanda quando sei sopraffatto dalle tue emozioni come tornare a te stessa diciamo la prima cosa è che devi diminuire il valore delle emozioni dovete capire che non è possibile stabilizzare le emozioni la mattina mi ami la prima sera dopo sei arrabbiato con me poi di nuovo dici va bene va bene ti amo di nuovo e questo è uguale per tutti fin tanto che cerchi di trovare l'orientamento nelle tue emozioni menti a te stesso perché le emozioni quando le osservi cambiano ogni minuto devi cercare di andare oltre le emozioni e lo fai non dandogli lo stesso valore che gli dai di solito allora raggiungerai uno Stato e lo Stato può essere molte cose può essere gioia può essere estasi felicità di solito è un misto e tutto ciò è molto stabile e questa stabilità è quello che ti dà la pace capisci in quel momento che ci sei e lì è quello questa è la realtà mentre le nostre emozioni ti vogliono muovere aiutarti ma invece di lasciarle andare tu li corri dietro e questo è il problema in India ad esempio la gente non si sposa per emozioni non so nel tuo caso ma forse sono la stessa cosa i genitori a un certo punto suggeriscono alla figlia o al figlio noi ti cerchiamo il marito o la moglie e iniziano in qualche modo a guardare dentro la famiglia oggi nel 100% dei casi che un cugino sposa un altro cugino ma molte famiglie si sposano tra cugini certo i soldi restano in famiglia è la posizione più sicura e comunque guardano molto molto attentamente e possono cercare per un anno di media e in quell'anno le famiglie si incontrano guardano come vanno d'accordo e fanno delle investigazioni profonde sulla tua situazione è molto serio e la coppia se è una famiglia normale diciamo gli permettono di vedersi possono parlarsi e poi dopo il primo incontro di solito la madre e il padre chiede alla figlia il figlio com'è andata se il figlio dice no, questo è catastrofe non ce la posso fare i genitori non è che dicono subito ok, ne cerchiamo un'altra dicono guarda un'altra occhiata soprattutto quando si piacciono quando le famiglie si piacciono la stessa cosa per la figlia ma se una ragazza dice guarda non mi piace sono pensato non mi sento bene non voglio guardarlo non mi piace la sua voce non mi piace per niente in quel caso si smetteranno i negoziati ma non lo puoi fare dieci volte è una seconda chance e allora ti chiederanno più nel dettaglio quali sono le preferenze ma c'era a stupirsi i genitori hanno di solito un buonissimo occhio non ha a che fare con l'amore ha a che fare con le cose pratiche do they have the same education for example ad esempio se hanno la stessa educazione un modo da poter comunicare un modo da poter comunicare do they have degli scambi avere un background simile queste cose sono molto importanti poi guardano la stabilità psichica poi l'altra famiglia si incontra con il non so mai genere nuora e guardano come anche loro vanno d'accordo se tutto va bene li lasciano ancora del tempo perché ricordatevi in un anno o l'asino muore o il re muore o tu muore quindi qualunque cosa può cambiare e se non cambia allora fissano la data si sposano e invitano la loro tribù costano un sacco di soldi possono arrivare a mille persone quindi è veramente una cosa grossa e poi si muove normalmente la figlia si muove nella casa del marito questo è normalmente come si muove e vivono nella casa dei genitori o se sono ricchi può essere che il marito ha la sua casa o se sono più ricchi il marito ha la sua casa e sono più rilassati ma per lo più vivono nel centro della famiglia vivono nel centro della famiglia che non è facile in India hanno un accordo comune hanno sempre persone è praticamente impossibile trovarti un posto per stare da solo quindi si accordano ad un livello molto alto di dolcezza cercano veramente di mettere a suo agio l'altro e di renderlo felice questo è l'accordo di base quindi le emozioni come si sentono non è una questione di solito a meno che sei seduto ma non accade spesso perché dovresti avere un'educazione e un allenamento a tenere in basso le tue emozioni e ti concentri soprattutto sulle funzioni cucinare fare una spesa teniamo insieme la famiglia e come ti senti è secondario in occidente è il contrario è sempre a che fare sul come mi sento sento così e voglio sentirmi così ma non mi posso sentire così eccetera e non avete capito che non riuscite a cogliere le vostre emozioni non l'avete mai visto ma siete ancora così ossessionati dalle vostre stesse emozioni che ti fluttuano intorno, dentro sopra, sotto giusto è già nella parola è emozione si muove costantemente non le puoi fissare quindi non cercare di fissarle perché vogliamo una vita emozionale abbiamo un caos nella nostra vita nelle nostre relazioni in un giorno parti dall'amore all'inferno e ritorno o stai in tre giorni all'inferno e un'ora felice e così on poi entri nell'agonia che è anche un super stato e dici e ti respiri nella tua agonia e è un sogno dalla mattina alla sera perché ti manca la distanza una buona distanza tra una coppia è la distanza in cui auguri il meglio all'altro se potete farlo è un'ottima distanza se senti che hai una mano alla gola che stai per soffocare allora non puoi più augurare il meglio all'altro e in realtà gli auguri l'inferno da bene all'inferno o è molto vicino per questo è così importante guardare sempre a quella distanza non chiedersi sempre ma mi ami ma cos'è lo dici solo o vuoi dirlo veramente? bambini questo è il perfetto modo di aprire l'inferno ma la verità è e tu chiedi quando sei nel bisogno o quando sei nel potere e magari l'altro non è nel potere e non ti può dire che ti ama ad esempio non ti può dare attenzione perché non è acceso in quel momento quindi è molto molto importante che imparate a vivere con queste limitazioni questo è quello che è l'amore questo è quello che l'emozione l'emozione al massimo può portare e quindi quando iniziate ad andare oltre entrate in uno stato e gli stati sono con te ti nutrono e non hai più bisogno di altro questo è quando hai spazio e puoi sempre dare da quello spazio se sei in un'emozione, in un movimento se due rifugiati sono sotto rifugio e si chiedono mi ami cosa dovrebbero dire? siamo in movimento quindi in India è una delle ultime società dove praticano il livello di anima capiscono che è importante sviluppare la tua anima non di volare nelle tue emozioni conosco una coppia e ci hanno messo nove anni per arrivare al punto in cui sentivano amore nove anni si erano simpatici si piacevano ma l'amore non c'era hanno anche avuto bambini ma l'amore è arrivato dopo ma quando arriva vi posso dire non ho mai visto una famiglia così prima non potete immaginare che cosa ricevi se hai il primo amore il primo marito la prima moglie e lo mantieni e da noi il contrario che devi avere prima dieci ragazze e ti metti dentro un disastro dalla mattina alla sera e poi devi sempre compararli uno con l'altro questo è così quella cosa come puoi pensare oltre che le emozioni non sono una questione facile di poter trovare la felicità è praticamente impossibile se non ti calmi da un punto di vista orientale se loro ci vedono siamo impossibili non ci darebbero mai uno delle loro figlie non chiederebbero mai perché siamo avvelenati siamo profondamente avvelenati sapendo questo non ricominci più a giocare così tanto ma provi veramente a passarci attraverso con te stesso e se tutti e due con la stessa intenzione di rimanere nella modalità giocatore singolo e fare il lavoro puoi farcela e poi hai un'ottima occasione per fare esperienza un livello elevato d'amore perché impari a dire la verità a mostrare capisci che l'altro non ti può amare 24 ore perché tu stessa non sei in grado di farlo allora ti diventa chiaro vedi che sia uno che si lamenta quindi non puoi accusare l'altro che sia uno che si lamenta e questo è che quando arrivi ai ruoli capite che siamo completamente meccanici nei nostri ruoli e ci scambiamo i ruoli ma i ruoli hanno tanto a che fare con te come il melone ha a che fare con le patate e dopo questo sembrerai nuovo e questo è quello che adoro in questo lavoro letteralmente illumina il tuo mondo così puoi vedere e ogni volta che vedi diventi più piccolo diventerai umano e questo è il primo passo Hafiz ha detto se vuoi diventare Dio diventa umano più vedi più sai più diventi umano grazie per la vostra bella attenzione mi dà molto piacere essere con voi in questo giorno perfetto è perfetto non è? Siete la compagnia perfetta non avrei potuto sceglierla meglio grazie 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 a tutti.